Angela e Paolo, noi a Temptation Island? Parla la Caloisi Angela Caloisi e Paolo Crivellina a Temptation Island? La risposta della coppia Mancano appena tre mesi all'inizio della nuova e quinta stagione del reality show estivo più seguito della rete Mediaset, parliamo di Temptation Island, il famoso programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia L'attesa è ancora lunga eppure si cominciano a vociferare i nomi delle possibili coppie che potrebbero prendere parte al cast che comporrà la nuova edizione Dopo le chiacchiere su Luca Onestini e Ivana Mrazova la cui partecipazione, secondo le indiscrezioni di Alfonso Signorini, sembra essere quasi certa, ecco che si parla anche di Paolo Crivellina e Angela Caloisi, scopriamone di più Temptation Island 2018 Angela Caloisi e Paolo Crivellina. Temptation Island? È una proposta che prenderemo in considerazione anche se sinceramente penso che si tratti di un programma televisivo molto difficile D'altro canto se dovessi riporre la mia fiducia nei confronti di Paolo che ad oggi provo, potrei anche pensare di accettare la partecipazione senza paure, ha annunciato l'ex corteggiatrice Angela Caloisi Angela e Paolo, a distanza di qualche mese dalla scelta del tronista, stanno vivendo serenamente la loro storia d'amore Entrambi sono molto felici insieme e a confermarlo è la stessa coppia che recentemente si è svelata nel corso di alcune interviste rilasciate al nuovo magazzine di Uomini e Donne In merito alla propria divita è Paolo a sorprendere con delle sorprendenti dichiarazioni. Paolo Crivellina e Angela Caloisi complici dopo Uomini e Donne. Ciò che mi ha stupito è la nostra complicità, credevo che ci volesse più tempo per raggiungerla Siamo entrambi due persone molto dirette e sin dal principio abbiamo impostato un rapporto abbastanza maturo in cui affrontiamo ogni problema anche se, per il momento, non vi sono stati veri problemi, ha fatto sapere l'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne Angela e Paolo vanno d'amore e d'accordo e lo dimostrano giorno dopo giorno attraverso i vari scatti fotografici pubblicati sui social Quindi, non escludiamo la possibilità di rivedere la coppia nuovamente sul piccolo schermo ma, questa volta, in una trasmissione molto più dinamica e rischiosa Per Crivellin non sarebbe un'esperienza del tutto nuova, il ragazzo, infatti, è stato un ex tentatore della quarta edizione di Temptation Island in cui lo abbiamo visto molto vicino alla fidanzata Valeria Bigella, ex compagna di Alessio Bruno Grazie a tutti